uno che cerca la verità, non sempre riesco a trovarla, voglio capire però, adesso non si può trincerare, dietro queste idee, queste cose che abbiamo visto, l'entrata in piscina di vacchi con la bicicletta, i balletti, toccare i fondoschieri, chi c'era? C'era lei, adesso non so gli anni in cui sono stati fatti, c'era lei, c'era un rapporto? Guardi Giletti, io ci ho lavorato per tre anni e mezzo, quattro, da quando lui aveva, se non sbaglio, 3.000 follower, a quando lui ne aveva, se non sbaglio, 11 milioni, questo è stato il momento in cui ho lavorato con lui e il mio lavoro è il social media manager, è quello che faccio. Quindi lei dice, ho trasformato un uomo conosciuto in Italia, nel settore, eccetera, in una star mondiale, perché 11 milioni, da 3.000 a 11 milioni, questo ci dice lei. Guardi, io ho sempre, non ho mai, non mi sono mai vantato dei clienti che avevo e delle cose realizzate con i miei clienti. Sono stato, questo è uno dei motivi per cui mi è stato fatto un attacco del genere, perché sapevano benissimo che, a parte lo scherzo delle iene, che mi era stato appunto venduto come uno scherzo. Io sono stato allo scherzo e insieme ad altre cose che magari nel corso della puntata vedremo insieme.